Quando posso preferisco viaggiare in auto e voi? Bene, benvenuti in questo nuovo video delle riflessioni motoristiche, video che ogni giovedì porto sul canale con argomenti sul mondo dell'automobilismo però visti dal mio personalissimo punto di vista. Oggi parleremo di scelta del mezzo di trasporto o meglio parlerò io della scelta del mezzo di trasporto, sì perché quando ho la possibilità di scegliere preferisco sempre viaggiare in auto. Mi capitava prima della pandemia di muovermi abbastanza spesso e a seconda di dove dovessi spostarmi prendevo diversi tipi di veicoli a partire dall'aereo o al treno ma nella maggior parte dei casi quando era possibile ho sempre preferito viaggiare in auto. Viaggiare in aereo per esempio mi stressa tantissimo dover arrivare prima in aeroporto poi il check-in poi il controllo dei bagagli poi per chi viaggia spesso in aereo lo sa la lotta per trovare un posto per il proprio bagaglio in aereo. Anche il viaggio seppur magari sia breve un'ora un'ora e mezza lo trovo sempre stressante. Certo ci sono occasioni in cui non si può fare altrimenti per esempio mi capitava spesso di andare in Lombardia e sicuramente il modo migliore più semplice più economico più veloce per farlo era l'aereo per cui non è che avessi tanta scelta. Però se ho la possibilità di stare magari qualche giorno in più di poter organizzare il viaggio in maniera un po' più confortevole e soprattutto se ho necessità di muovermi con un po' di bagagli in più è normale che io preferisca sempre l'auto. La preferisco anche al treno per una questione principale cioè quella dei costi. purtroppo viaggiare in treno è tuttora abbastanza costoso sebbene le tempistiche di viaggio siano molto ridotte oggi e non sia scomodissimo anzi lo trovo un mezzo di trasporto molto comodo. La questione è che più o meno a parità di chilometraggio siamo lì lì con i prezzi sia nel viaggiare in auto sia con con il treno. Ecco perché se ripeto ho la possibilità di farlo preferisco sempre viaggiare in auto. Oltretutto io mi trovo bene anche a percorrere lunghi viaggi non mi stressa anzi mi piace guidare mi piace anche se devo farlo per diverse ore anzi preferisco più magari poter stare o dover stare diverse ore in auto viaggiando magari in autostrada o su strade di collina e magari perché sto facendo una gira una gita fuori porta piuttosto che guidare in città ma questo penso che sia più o meno valido per tutti. Oltretutto non ho neanche mai avuto grandi problemi nel farlo o nel ritrovarmi poi all'arrivo troppo stanco o dolorante. Ho sempre viaggiato tranquillamente con qualsiasi auto abbia utilizzato e tra qualche settimana farò un viaggetto farò all'incirca più di duemila chilometri in tre giorni ma ho anche la necessità di spostarmi con l'auto per questo viaggio e a essere sincero ne sono contento. Mi sveglierò prima la mattina farò un'alzata un'alzataccia anche se per me non è mai un problema per comunque viaggiare con più tranquillità e arrivare a destinazione nel primo pomeriggio. Comunque questo sarà un video che porterò sicuramente sul canale così per portarvi insieme a me in viaggio e per vedere come si comporta l'auto, consumi e quant'altro. Magari faremo anche un video, farò un video sulla preparazione dell'auto per questo viaggio abbastanza lungo. Io personalmente, ripeto, mi piace guidare, preferisco guidare, preferisco non dover sottostare a orari forzati, se mi va di partire un po' prima parte un po' prima, se mi va di arrivare un po' più tardi o con calma lo posso fare tranquillamente, se ho voglia di fermarmi per vedere qualche posto, per mangiare da qualche parte, lo posso fare in tranquillità e anzi nella stagione autunnale o invernale io mi diverto ancora di più. Lo so che magari molti non lo preferiscono, io però con il freddo fuori e il calduccio in macchina sinceramente guido con più voglia. La questione dell'inquinamento la metto in conto, certo viaggiare in auto inquina sicuramente di più, però se facciamo il conto magari di non essere da soli nel viaggio e quindi di avere con sé la famiglia o comunque altre persone, diciamo che diminuisce questo impatto. Sicuramente preferire i mezzi pubblici all'auto è una questione anche logica a volte, però una volta ogni tanto, non dico di farlo una volta al mese, un lungo viaggio, però se capita due o tre volte l'anno non penso che succeda chissà che cosa. È comunque anche un modo di sbagarsi un po'. Ripeto, mi piace stare in auto, mi piace guardare il paesaggio, rilassarsi un po' in auto. Se non ci mettiamo in autostrada a viaggiare a velocità folli e farlo invece a velocità normali, comunque velocità codice, si viaggia anche in serenità, in tranquillità. Poi con gli ausili alla guida che ci sono oggi lo si fa con ancora più comodità, per cui quando mi è possibile e spero che finisca tutta questa crisi che ci ha tolto anche il gusto di poter viaggiare o, peggio, la possibilità di poterlo fare, magari di uscire un po' da questa impasse e di ritornare ad essere un po' più sereni anche in questo senso. Viaggiare in auto per me poi è anche avere la possibilità di raccogliere un po' i pensieri, di ragionare e l'ho trovato sempre catartico. Spero che anche chi segua il mio canale sia d'accordo con me in questo senso. Guidare l'auto tutti i giorni è stressante, però farlo per una gita fuori porta o per un bel viaggetto, almeno da parte mia secondo me, è sempre una cosa positiva. Bene, basta con questa riflessione. Io vi aspetto come al solito nei commenti, di solito sotto questi video si accende la discussione e questo mi piace. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un like e se vi va iscrivetevi anche al canale. Noi con il prossimo video ci vediamo sabato e parleremo di un oggettino che mi è arrivato. Farevo il primo unboxing sul canale e è qualcosa che mi servirà anche per il viaggio, è qualcosa di interessante per cui non perdetevelo sabato con il nuovo video. Bene, io vi saluto, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!